benvenuti nel nostro nuovo video sulla casa di maria a efeso se siete appassionati di storia religione e luoghi spirituali siete nel posto giusto in questo video esploreremo uno dei luoghi più sacri del cristianesimo la casa di maria situata nei pressi di efeso in turchia esploreremo l'architettura l'atmosfera mistica e la spiritualità che avvolgono questa casa antica risalente al primo secolo dopo cristo immergetevi nella storia millenaria di questo luogo che è stato a lungo considerato il luogo dove la vergine maria ha trascorso gli ultimi anni della sua vita scoprirete i dettagli affascinanti della storia legata alla presenza di maria a efeso la sua importanza nel cristianesimo e il pellegrinaggio che continua ad attirare visitatori da tutto il mondo in questo video vi condurremo in un viaggio virtuale attraverso questa casa sacra esploreremo i suoi dettagli architettonici e vi porteremo a scoprire la profonda spiritualità che si respira in questo luogo non perdetevi questo entusiasmante viaggio attraverso la storia e la fete grazie per averci seguito in questo viaggio e non dimenticare di lasciare un like e iscriverti al nostro canale per altre avventure se hai domande scrivi pure nei commenti